Sono Alessandra Profeti e sono un'insegnante specializzata, una tanzoterapeuta, mi occupo di bambini con disabilità, faccio laboratorio di variativo anche con gli adulti, quindi sono abbastanza abituata a lavorare su di me, lavorare per il mio corpo, però volevo vincere un timore rispetto all'altezza e quindi ho voluto trovare questa esperienza e mi aspettavo sicuramente, un'esperienza importante che ho avuto di oggi la percezione del corpo, ma oggi è stata molto di più, perché è stata un'attenzione a tutto, sia al corpo, alle emozioni, anche la simbologia che il corpo riesce a comunicare e tramite questi esercizi si va molto in profondità, molto più di quello che si può aspettare o che si può programmare in anticipo. Sicuramente è qualcosa che consiglierei a tutti, so che per i bambini sarebbe una grande tutoria, però anche per i ragazzi, gli adolescenti, gli adulti che hanno un po' ancora delle riserve, dei timori, non solo rispetto alla conglia dell'altezza, ma è proprio come mettersi in gioco su tutti i piani, quindi veramente una bella esperienza. È stata molto guidata, molto sostenuta, un supporto passo passo e quindi grazie, grazie a Marco, grazie a Giorgio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.